Musica Ad Anna Polikoskaya, il town, ha dedicato la copertina dell'acquista, dichiarandola donna dell'anno. Stop! E' tutto falso. Beslan 2004, come avrebbero potuto difendersi? I bambini, i bambini di Beslan. Karashnikov contro Ciucciotto. La giornalista Natalia Estemirova è stata rapita questa mattina nei pressi della sua abitazione a Grosny, in Cecena. I vigliacchi muoiono molte volte. I coraggiosi provano il gusto della morte, una volta sola. Come quella che ha sparato cinque colpi contro la mia cara amica Anna Polikoskaya, che mi ha protetto sempre finché ha potuto, celando a tutte le nostre conversazioni segrete. E dice smettila di ridere. Alexander smette di ridere, però continua a dire... Mi è bravna. Mi è bravna. Indica quella B di Arbei, che è montata al contrario. Mi chiamo Ilaria Albi, presidente. Mi chiamo Ilaria Albi, presidente. E già, chi mi ha uccisa, presidente? Maledore al Signor Robert Resospettino, novembre alla anderen Siuivenessi, presidente. costsa è una scrisia, abbiamo a ur exponential dizępo guardare loro, sino a delle macie, delle macie, delle macie, delle macie sulle azgrade本 위해 Spacoli e Puично. andate le macie con nuovi quali gli amici e sicuri, hanno un Christie del pää, dell'amica venzione e si低i asymm% n Eltern con gli amici con l'amico trasfattato.